Ehi! Oh, lo mandiamo ad Andrea, lo mandiamo, dopo? Lo mandiamo ad Andrea, Andrea sulle gioste, guarda chi c'è. Guarda chi c'è sulle gioste, Andrea. Ehi! Guarda chi c'è, mi spira. No, no, no! Dai, vai! Ma che fai, non c'è nessuno, vicino è male. Oh, come sono belli, guarda! Guarda che scontro! Guarda chi c'è, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Assimiliano! Non c'è nessuno! Ma perché è nessuno? Assimiliano a Dubai! Guarda che botto! Ehi, salute a Andrea! 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 Oh, oh... A Napoli! Oh, oh... Ehi! No! Ehi! Salutate a Andrea, Andrea! lo devo mandare ad Andrea? Salute Andrea, ciao Andrea, andiamo a prendere le giostre, ti veniamo a prendere a Navoli, termine,